ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio scoprire insieme a voi il set da cucina e il mixer che vedete qui nell'angolino by bravo giochi sponsorizzati da master chef italia e dal gruppo and the mall ragazzi sono veramente fantastici sono iper realistici e qui come potete vedere abbiamo il mixer da cucina qui c'è scritto che ha funzioni realistiche ed è un prodotto adatto dai cinque anni in su oltre a questo bellissimo mixer bravo giochi ci ha inviato anche questo fantastico set da cucina che adesso guardiamo insieme nel dettaglio potete vedere è dotato di tutto il necessario per divertirci a cucinare vero amore guarda quante cosine e quindi non ci rimane altro che tirare fuori tutto dalla scatola e scoprirlo insieme da più vicino ci vuoi cucinare amore con questo set ma che bello ragazzi adesso ve lo mostro da più vicino tutto il set quindi all'interno troviamo un cucchiaio qui come potete vedere c'è il loghino di master chef poi abbiamo il cucchiaio semplice in una plastica molto resistente ed infine abbiamo una spatolina sono veramente fantastici tieni amore gioca all'interno della confezione troviamo anche questo macina pepe in rosso è veramente super realistico e carino quindi maciniamo il nostro pepe tieni amore questo poi ti servirà per condire le bistecchine o quello che preferisci poi abbiamo questo simpaticissimo hot dog eccolo qui quindi abbiamo il pane il bussel super super carino all'interno della scatola ho trovato questa bellissima padella cioè ragazze guardate veramente super realistica qui il fondo sembra ricoperto in materiale antiaderente veramente fantastica qui c'è anche l'appoggio per i nostri cucchiai o comunque per le nostre spatole ecco qui la padellina tieni amore bellissima qui abbiamo la griglia per cucinare il nostro dog o comunque i nostri hamburger o le nostre bistecche veramente fantastica guardate tutta in rosso con all'interno argentato infine abbiamo questa pentola corredata di coperchio ma guardate quant'è carina e qui possiamo cuocere la pasta il minestrone o comunque quello che preferiamo anche questa all'interno è in materiale antiaderente che dire ragazzi è un set veramente fantastico mi piace perché in una plastica molto resistente molto solida e mi piace il fatto che sia i cucchiai che le pentole le griglie siano iper realistiche quindi ti piace amore cosa ci cucini oggi tieni il cucchiaino mamma ma che bello quindi giriamo bene il peperone sta cucendo sentiamo rumore è quasi pronto e lo metti un po di pepe sul peperone fammi vedere e fammi sentire come fa il pepe come fa come fa il pepe fa come fa il pepe fammi sentire dai fammi vedere come prepara l'hot dog ah lo metti direttamente con il peperone fantastico peperoni hot dog che pranzetto speciale amore ma qual è il tuo pezzo preferito amore ti piace di più la pentola la padella la griglia cos'è che ti piace di più amore ti piace di più la pentola è super carina quindi adesso prepari un bel pranzetto alla mamma e intanto scopriamo anche il mixer perché anche quello ci serve per preparare da mangiare possiamo traitare sminuzzare eh ma lì cos'è che c'è lì dentro è un altro peperone quello mamma mia una peperonata oggi allora adesso cosa cucini la pannocchia ma e poi l'uovo e poi l'uovo allora devi preparare bene tutte le tue padelline tutto là dentro il peperone è pronto puoi tirarlo fuori ci servirebbe un piattino adesso la mamma te lo prende quelle cotte metto quelle sono cotte ah sì quello l'hai cucinato sì sì mettilo nel piattino adesso puoi cucinare l'ovetto e la pannocchia mamma mia ma che bello anche quello è pronto bravissima però devi usare anche il cucchiaino amore per girare le cose cucchiaio questa è la spatola se cucini la frittata per girarla Anna è ancora le prese con il suo pranzetto vera mamma hai preparato tutto e intanto abbiamo tirato fuori dalla scatola anche questo fantastico mixer cioè ragazzi è fantastico è più bello di quello che ho io in cucina e quindi questo è il nostro mixer in bianco e in rosso qua come potete vedere c'è il loghino di master chef le fruste e qui ci sono dei tastini per poter rastaccare la parte delle fruste dalla base ecco qui così lo possiamo riagganciare possiamo sollevare per mettere sotto il suo recipiente per far funzionare questo mixer dovete inserire due stilo da 1,5 e quelle si trovano molto molto facilmente quindi facciamo partire il nostro mixer per farlo funzionare spostate l'interruttore verso Anna oppure da spento potete semplicemente cliccare il pulsante qua su in alto ed ecco che le nostre fruste entrano in combinazione è veramente fantastico ma guardate che meraviglia ragazzi le fruste ovviamente sono stondate morbide quindi non c'è rischio di farsi male assolutamente ragazzi questi sono i fantastici set da cucina master chef by bravo giochi mi piace veramente un sacco il mixer e a quanto pare piace un sacco anche ad Anna mi piacciono un sacco le pentoline le padelline perché sono super realistiche e come vi dicevo prima in un materiale molto resistente mi raccomando fatemi sapere anche voi cosa ne pensate ditemi qual è il vostro pezzo preferito io come al solito vi mando un bacione grandissimo ragazzi qua ci mettiamo all'opera perché dobbiamo preparare il pranzo per papà vero Anna vi mando di nuovo un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao saluta amore ciao